Buonasera, sono François de Georges, sono professore di finanza all'USI e vi do il benvenuto a questo seminario dello Swiss Finance Institute organizzato in cooperazione con l'ABT. Vorrei presentare brevemente lo Swiss Finance Institute per chi ancora non lo conoscesse. Lo Swiss Finance Institute è una fondazione creata dieci anni fa dalla comunità bancaria e finanziaria della Svizzera in collaborazione con le principali università svizzere presenti nel campo della finanza, tra cui l'USI. Colgo l'occasione per ringraziare l'ABT per il suo prezioso sostegno alle attività del Swiss Finance Institute e alle attività dell'USI. Lo Swiss Finance Institute sostiene e promuove la ricerca, le scuole dottorali e la formazione continua in ambito bancario e finanziario. Organizza regolarmente seminari su temi economici e finanziari a Zurigo, Ginevra e Lugano. Stasera abbiamo la fortuna di accogliere un redattore d'eccezione, il professor Fabrizio Zilibotti dell'Università di Zurigo. Do adesso la parola al decano della Facoltà di Scienze Economiche, il professor Ghialardini, che introdurrà il professor Zilibotti. Grazie. Gentili signore e greggi signori, ho il privilegio di introdurre il professor Fabrizio Zilibotti che terrà questa sera la conferenza ABT SFI all'USI. Fabrizio Zilibotti ha conseguito il dottorato in economia nel 1994 alla prestigiosa London School of Economics con una tesi su endogenous growth and underdevelopment traps. La sua carriera accademica ha inizio all'Università di Pompeo Frabra di Barcellona e fasi successivi lo vedono all'University College di Londra e all'Università di Stoccolma. Dal 2006 è professore ordinario di macroeconomia e politica economica all'Università di Zurigo dove insegna dei corsi sulla crescita economica ed è anche direttore scientifico del UBS Center for Economics in Society. Ho ottenuto riconoscimenti molto prestigiosi e significativi, tra questi il Jansun Award nel 2009 come migliore economista europeo sotto i 45 anni. È l'attuale presidente della European Economic Association e è coeditore di Econometrica che è una delle cinque riviste scientifiche top nel campo delle scienze economiche. Nel 2014 ha ricevuto un prestigiosissimo ERC Advanced Investigator Grant per il progetto Institutions, Policy and Culture in Development Process, finanziato per 1,6 milioni di franchi svizzeri dal Consiglio della Ricerca Europea. La ricerca del professor Zilibotti verte sul tema della crescita economica ed in particolare sulla relazione con gli aspetti culturali intesi come l'insieme delle preferenze, dei valori e delle convinzioni e gli aspetti di innovazione tecnologica e di imprenditorialità. I suoi lavori ampliano il paradigma neoclassico tradizionale incorporando dei cambiamenti culturali endogeni nei modelli economici, muovendo dal presupposto che quei cambiamenti culturali e le relative trasmissioni intergenerazionali dei valori che favoriscono un'attitudine imprenditoriale nelle nuove leve producono cambiamenti tecnologici favorevoli per la crescita. Quindi paesi che partono dai medesimi fondamentali economici possono ritrovarsi in seguito su dei percorsi di crescita caratterizzati da diversi livelli di innovazione e di imprenditorialità. Altri capitoli della ricerca del professor Zilibotti conducono ad una moderna teoria economica della politica fiscale, con modelli di equilibrio economico generale, in un contesto internazionale e intergenerazionale che descrivono le scelte complesse di agenti, allo stesso tempo consumatori e votanti, riguardo alla produzione di beni pubblici e il loro finanziamento tramite debito e tasse. Questi modelli teorici ci aiutano a capire la distribuzione internazionale del debito nella realtà, ad esempio perché il rapporto debito-pill sia correlato positivamente a misure di inefficienza nell'approvvigionamento di beni pubblici e studiare l'impatto economico di shock fiscali e demografici. Recentemente il focus della ricerca scientifica del professor Zilibotti si è diretto verso l'analisi della crescita economica della Cina e proprio questo sarà il tema della conferenza di questa sera. I lavori di Fibrizio Zilibotti ci mostrano come i moderni strumenti della teoria macroeconomica possano aiutarci a comprendere le peculiarità della straordinaria trasformazione economica di questo Paese. I risultati dei lavori scientifici del professor Zilibotti sono apparsi in più di 40 articoli pubblicati in rivista internazionale con peer review e di questi ben 9 sulle riviste top 5 di economia, riuscendo a pubblicare su ognuna di queste riviste e raggiungendo oltre 9.000 citazioni. Per la Facoltà di Scienze Economiche dell'Usi è quindi un grande piacere ed onore ospitare la conferenza pubblica del professor Zilibotti intitolata La crescita economica cinese, passato, presente e futuro. Ringrazio sentitamente il professor Zilibotti per essere con noi questa sera a Lugano e gli cedo la parola. Buonasera, vorrei intanto ringraziare Swiss Finance Institute e ABT per darmi per l'onore di questa lezione e anche Patrick per questa presentazione anche troppo generosa. Come Patrick ha annunciato, vorrei parlare della Cina, il titolo indica passato, presente e futuro. Come economisti di solito siamo abbastanza bravi a parlare del passato, siamo lì lì quando parliamo del presente e non siamo granché quando parliamo del futuro. Quindi ho pensato di cominciare con questa slide dove si vede il presidente cinese Xi Jinping che ci indica dove è il futuro della Cina. Abbiamo due problemi qui, prima che non vediamo dove sta indicando Xi e il secondo problema è che non è del tutto chiaro che neanche Xi sappia dove sta indicando. Quello che sappiamo invece è quello che la Cina ha fatto negli ultimi 30 anni, 35 se vogliamo, questo grafico fa vedere la distribuzione del PIL mondiale tra tre grandi aree, la Cina, gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Ora se guardate al 1980 la Cina in termini di origine della produzione della produzione mondiale quasi non esiste, il 2,5%. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea rappresentavano insieme oltre la metà della produzione mondiale. Ricordate questa è una misura della share, quindi non sto dicendo che l'Unione Europea e gli Stati Uniti abbiano sofferto una caduta della produzione, ma in termini di quello che rappresentano nell'economia globale, rappresentano oggi molto meno di quanto non rappresentassero nel 1980. Al contrario la Cina è passata dal 2,5% ad essere oggi una potenza economica che in termini di PIL assoluto ha sorpassato i valori degli Stati Uniti e anche dell'Unione Europea. Ora questa è una misura di PIL aggregato, prodotto interno lordo aggregato. Questo vuol dire che dobbiamo poi tenere in conto qual è la grandezza di queste tre aree del mondo. in Cina il numero di abitanti è oggi di un miliardo e 350 milioni, negli Stati Uniti vivono 300 milioni di persone e nell'Unione Europea più o meno 500 milioni di persone. Questo significa che in termini di standard di vita o di PIL pro capite la Cina è ancora un paese sostanzialmente più povero di quanto non lo siano gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma in termini di potere e di importanza nell'economia mondiale la Cina è oggi un grande paese non solo per la sua grandezza e per il numero dei suoi abitanti. Questo è un altro modo di rappresentare il processo di crescita, è un grafico che suggerisce, presentato in scala logaritmica o in termini di prodotto per cui non è la scala lineare che vedete sull'asse verticale, ma la Cina come vedete se prendiamo il periodo fino al 1980 la distanza in termini relativi, che è quello che misura questo grafico tra la Cina e la Svizzera è più o meno costante, poi la Cina accelera e si avvicina sempre di più ai paesi avanzati. Questo grafico forse rende meglio l'idea mostrando quello che è il pil pro capite della Cina come in termini percentuali rispetto al pil pro capite della Svizzera. Se andiamo alla fine degli anni 70, anche all'inizio degli anni 80, la differenza era enorme, il reddito pro capite era il 5% del reddito pro capite della Svizzera, oggi siamo al 25%. E se chi di noi ha viaggiato in città come Beijing o Shanghai ha l'impressione che anche questa misura non sia reale, bisogna ricordare che in queste città il reddito pro capite è doppio della media cinese, quindi anziché il 25% sarebbe il 50% del reddito pro capite medio svizzero. Quindi stiamo vedendo una cavalcata tra uno dei paesi più poveri del mondo, che era la Cina nel 1980, a un paese che nel complesso adesso è un paese a reddito medio e nelle aree più sviluppate ha un reddito comparabile con paesi come il Portogallo o come la Slovenia. Ecco, questo è un altro modo di rappresentare questa cavalcata. Se andiamo indietro negli anni 60 e negli anni 70, la Cina era un paese più povero in termini medi di quanto non fossero l'India e la Nigeria, due grandi paesi in via di sviluppo. Oggi la Cina è più o meno ai livelli del Brasile, oggi la Cina ha un reddito pro capite che è più o meno il doppio di quello indiano. Non è solo di produzione che si parla, è anche l'importanza dell'economia cinese come fonte di domanda e di offerta naturalmente. Se noi guardiamo qui all'esportazione di beni e servizi, ancora una volta, ancora all'inizio degli anni 90, la Cina era un paese estremamente chiuso, era un paese che non commerciava con il resto del mondo. Oggi la Cina, in valore assoluto, quando si guarda al valore delle esportazioni di beni e servizi, è il maggiore esportatore mondiale. Quindi pur essendo in termini assoluti comparabile agli Stati Uniti, l'ha superato in termini di esportazione. Ora, una delle domande che spesso vengono fatte è, sì, tutta questa crescita può essere in qualche modo quantitativa, ma la popolazione cinese ha veramente beneficiato di questi cambiamenti. La risposta è, secondo tantissimi indicatori, oggi ve ne farò vedere solo uno, è una risposta positiva. Se noi guardiamo per esempio alla povertà, viene spesso fatto notare, giustamente, che la disuguaglianza all'interno della Cina è cresciuta drammaticamente dai tempi del maoismo. Certamente a quel tempo, a parte una piccolissima elite, la gran parte della popolazione viveva in condizioni di sussistenza, di povertà. Oggi ci sono grandissime differenze tra imprenditori di successo e lavoratori che ancora vivono in condizioni relativamente povere, aree ricche e aree rurali che sono ancora molto povere. Però se guardiamo alla parte più povera della società cinese, cioè alla percentuale della popolazione che vive, secondo quanto definisce la Banca Mondiale, in condizioni di povertà estrema, che viene categorizzato in modo più o meno arbitrario dalla Banca Mondiale con un reddito reale, diciamo, di meno di un dollaro e novanta centesimi al giorno, nel 1980 88% della popolazione cinese viveva in quelle condizioni. Infatti se guardiamo al problema della povertà nel suo complesso, la Cina rappresentava la grande fonte di povertà a livello mondiale. Se andiamo agli ultimi dati siamo al di sotto del 10%. Di fatto la grande caduta della povertà estrema nel mondo origina dal successo della Cina. Questo lo volevo dire a modo di introduzione perché qualche volta mi viene detto che quello che importa non è la crescita, è lo sviluppo economico. Io ho una forte impressione, dopo tanti anni di aver studiato, che queste due parole vanno spesso insieme e che lo sviluppo economico, con questo non voglio dare euro l'impressione, vedrete che ci saranno molti problemi nell'economia cinese, però la crescita economica è uno dei grandi fattori di sviluppo. Ora, questa convergenza, questa grande cavalcata, questa rincorsa dell'economia cinese è stata particolarmente forte tra il 2000 e il 2010, un periodo in cui il tasso di crescita dell'economia è stato, secondo alcune stime, addirittura al di sopra del 10%. Possiamo discutere se è stato il 10, se è stato il 9, ci sono molte questioni sui dati cinesi, il quadro non cambia, c'è stata una crescita formidabile durante questi anni. Poi a partire soprattutto dal 2012, ma potremmo dire anche in qualche misura dal 2010, c'è stato un rallentamento. La crescita oggi è intorno al 6,5%, in periodi in cui le economie industrializzate crescono all'1,5%, quindi pur sempre una crescita molto sostenuta. Al contempo però ci sono dei dati che sono preoccupanti, c'è stato un brusco rallentamento nella crescita della produttività, la Cina ha una forte crescita della produttività nel corso del tempo, questa ha rallentato. Il rendimento degli investimenti in capitale fisico per esempio è calato fortemente e cercherò di dire qualcosa su questo. Ci sono state grandi turbulenze anche nei mercati finanziari, il mercato azionario è stato caratterizzato prima da un grande boom, poi da una serie ripetute di cadute del mercato azionario e c'è stata un'esplosione del debito. Ora questa esplosione va qualificata, questa esplosione del debito privato è molto importante se la pensiamo in termini di crescita, se pensiamo a qual è la relazione tra il debito e il PIL è più o meno a livello degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, ma comunque la crescita sicuramente solleva delle questioni per quanto concerne la stabilità finanziaria della Cina. Ora una delle domande che tutti si pongono è se siamo in qualche modo all'inizio della fine, se la grande rincorsa della Cina è finita, in inglese si parla to hit the wall o viceversa siamo a uno di quei periodi fisiologici di rallentamento in cui l'economia, tutto sommato la Cina ha avuto questa crescita così sostenuta e così stabile, ha ora un momento di riassestamento se vogliamo. Uno dei fattori di preoccupazione è un dato su cui io stesso ho lavorato negli anni passati, che dice che numerose economie in via di sviluppo emergenti hanno sperimentato crescenti difficoltà e anche delle repentine decelerazioni una volta raggiunto il livello del 30% della frontiera, cioè quando si è arrivati a un reddito più o meno a livello del 30% del paese più ricco del mondo, diciamo degli Stati Uniti, molti paesi hanno rallentato repentinamente, non tutti, la Corea, anche il Giappone hanno continuato a correre, ma altri paesi in Asia e nell'America Latina hanno mostrato difficoltà e c'è chi dice beh la Cina sta già dimostrando quei sintomi. Ora questa è a modo di introduzione, quello di cui vorrei parlare oggi sono tre punti, prima vorrei produrre brevissimamente una struttura concettuale per spiegare o interpretare il processo di crescita della Cina con riferimento ad altre esperienze, di cui non vorrei il tempo di parlare, ma vorrei dare questa struttura concettuale, basandomi su studi che abbiamo fatto nel passato con Daron Semoglu e Filippo Aguion. Poi vorrei introdurre una distinzione tra crescita quantitativa e crescita innovativa e argomenterò che la Cina fino a pochi anni fa è stata trainata da un processo di crescita quantitativa e che questo processo di crescita quantitativa ha avuto un grande successo per una serie di ragioni anche politico-istituzionali, ma che in questo momento per continuare a crescere è necessario che la Cina transiti in una situazione di crescita innovativa e le istituzioni che la Cina potrebbero essere un limite verso questo processo di transizione. Verrò dopo ai dettagli. Questa è l'idea generale che ho maturato lavorando per anni sui processi di crescita in vari paesi. L'idea è che esistano diversi motori del processo di crescita. Pensiamo non a un paese come la Svizzera che è all'avanguardia, che è in qualche modo la frontiera stessa insieme agli Stati Uniti o altri pochi paesi fortunati o virtuosi se vogliamo. Pensiamo a paesi che sono più poveri, pensiamo a paesi che utilizzano tecnologie meno avanzate e prendiamo paesi che riescono ad innescare il processo di innovazione, quindi non pensiamo a paesi che sono tormentati da processi di guerre civili, distruzione e altri fenomeni che purtroppo sono realtà in molti paesi. Allora questi paesi che emergono, paesi emergenti se vogliamo, lontano dalla frontiera tecnologica, cioè quando sono sufficientemente poveri in termini relativi e anche in termini di capacità tecnologica, che è ancora il caso oggi della Cina, la produttività di un lavoratore cinese oggi è ancora molto più bassa di quello di un lavoratore svizzero, possono crescere attraverso, primo luogo, un forte processo di investimento in capitale fisico, quindi la creazione di macchinari, edifici, infrastrutture, meccanizzare il processo produttivo. In secondo luogo attraverso un processo di riallocazione, questo è un processo importantissimo nel caso cinese, il fatto che ci siano aree dell'economia che sono sviluppate ed avanzate e queste aree crescano e assorbano risorse che fino a quel momento erano in aree che sono invece più depresse. Pensiamo alla transizione tra il settore rurale e il settore urbano, dove la produttività è un rapporto di 3 a 1. Infine, ma altrettanto importante, la possibilità di adottare e di imitare tecnologie che sono in uso presso imprese e paesi più avanzati. Questo è uno dei grandi motori del processo di sviluppo e il governo cinese è stato sempre molto attento a creare quel flusso di informazione, di transfert tecnologico, anche favorendo il capitale di inversione straniera. Questo è la Cina fino ad oggi o perlomeno fino alla metà del decennio scorso. Più vicino alla frontiera è necessario valorizzare altre risorse, in qualche modo la possibilità di crescere in modo imitativo diventa meno forte ed è necessario allora valorizzare risorse quali l'educazione, il capitale umano e la capacità di innovazione. Le politiche anche che sono associate a questi processi, a queste diverse fasi del processo di crescita sono diverse. Per favorire la crescita quantitativa spesso è necessario risolvere problemi di coordinamento, quindi anche interventi che aiutino in modo selettivo alcune aree, alcune imprese, anche limitando il processo di concorrenza, possono essere utili a produrre crescita e miglioramento tecnologico. Tuttavia quando questo motore in qualche modo perde potenza è necessario transitare anche verso altre politiche e queste politiche devono favorire la concorrenza, il 11 playing field competition come viene chiamato nel gergo. Diventa più importante avere, che sia facile creare nuovi start up, diventa più importante il processo di distruzione creativa, il modello statunitense della Silicon Valley con nuove imprese che crescono e hanno successo anche partendo dal basso. E' anche importante lo sviluppo finanziario, la finanza spesso viene un po' vituperata in questi giorni nei dibattiti dei media, tutta l'evidenza suggerisce che non ci può essere crescita economica e convergenza senza uno sviluppo adeguato del settore finanziario e creditizio, che è uno dei problemi ancora della Cina. Allora vorrei cominciare a parlare prima degli aspetti della crescita quantitativa, non vorrei andare troppo indietro, semplicemente volevo fare notare che anche durante il regime maoista, questi sono in qualche modo dei risultati recenti, di alcuni studi recenti, l'idea che la Cina fosse un completo disastro economico è parzialmente incorretta. C'è stato un processo di crescita quantitativa che non ha prodotto grandi miglioramenti, se vogliamo, nella qualità di vita della popolazione, anche perché le dinamiche demografiche erano molto forti, ma comunque era già innescato. Ma senza dubbio alla fine degli anni 70 c'è stata una grande accelerazione, che è quella appunto che abbiamo visto nei dati precedenti. E questa accelerazione è stata quella che ha dato luogo a questa grande rincorsa di cui parlavo in precedenza. Quali sono le caratteristiche fondamentali del processo di crescita della Cina durante questo periodo? Senz'altro il propellente sono state le riforme economiche della fine degli anni 70. La decollettivizzazione dell'agricoltura è stata la prima grande riforma che ha messo in moto l'economia cinese. Una serie di politiche industriali che hanno favorito alcune zone, alcune imprese, tra queste le cosiddette zone economiche speciali, su cui dirò qualcosa in un momento, e soprattutto la privatizzazione delle imprese nel settore manifatturiero. Queste riforme hanno messo in atto un processo di crescita che è stato caratterizzato da una profonda riallocazione, una riallocazione delle risorse produttive che ha avuto ad esempio come motore la industrializzazione, quindi la forte caduta della quota della produzione in agricoltura e una forte crescita del settore industriale, quando in età maoista questa era rimasta per un certo periodo abbastanza praticamente costante. È stata aiutata certamente da un processo di crescita salariale molto contenuta, quindi la Cina soprattutto negli anni 90 è una Cina in cui i salari crescono ma ha un tasso decisamente inferiore al tasso di crescita della produttività. È stato il trasferimento di conoscenze tecnologiche che sono state rese possibili dagli investimenti diretti delle imprese occidentali in Cina in grande misura. È stata anche una trasformazione politica, prima Patrick faceva riferimento a questi cambiamenti che sono anche istituzionali e culturali, laddove all'interno del partito comunista cinese, se torniamo agli anni 70 o agli anni 60, quello che contavano erano la lealtà e la purezza ideologica in qualche modo, quindi i grandi scontri erano su temi di carattere ideologico, chi faceva carriera faceva riferimento al leader politico vincente. Invece nella Cina, a cominciare da Deng Xiaoping, che vedete qui, il pragmatismo che ha preso il posto della forte ideologizzazione, è stato anche un sistema di promozione all'interno del partito comunista che è basato sul successo individuale dei vari leader nella gestione del potere laddove il potere è stato loro consegnato. Non ho tempo di espandere su questo punto, può essere anche stata una delle ragioni, alcuni studi hanno mostrato, per cui c'è stato questo grande scempio ambientale in Cina. Le misure di successo all'interno del partito comunista sono spesso misure quantitative di crescita della produzione. Comunque questo senza dubbio ha creato un nuovo sistema di incentivi e anche una nuova cultura nella leadership politica. Relazionato con questo, la forte capacità di governo anche a livello locale, una capacità di governo che come dirò presto è legata anche a forti fenomeni di corruzione, ma la capacità comunque di rendere possibili alcuni interventi che in altri paesi in via di sviluppo non è presente. Vorrei fare ora due brevi flash su risultati di ricerca che ho portato avanti nel corso di questi anni. Questo è un articolo che uscirà tra poco in una rivista internazionale dove studiamo la politica industriale delle cosiddette zone economiche speciali. Queste zone economiche speciali sono una delle colonne portanti della politica industriale cinese. Sostanzialmente in alcune città le regole istituzionali sono state nel corso del tempo cambiate in modo da rendere l'economia di mercato più facile, più efficiente. Sono state tolte tutta una serie di regole, le imprese straniere sono state incentivate a concentrare i propri investimenti in quelle città e questo ha permesso di sperimentare con la capacità di sviluppare un'economia di mercato. Deng Xiaoping era famoso per le sue massime, una di queste è attraversiamo il fiume tastando le pietre sotto i piedi, che sottolinea come fosse importante secondo questa cultura il fatto di sperimentare prima di fare le grandi riforme e forse anche per questo, questa è la grande differenza tra la Cina e la Russia post sovietica, la Cina ha seguito un atteggiamento molto pragmatico nel suo processo di crescita. Ora in queste città che erano oggetto di queste politiche si metteva in atto una combinazione tra liberalizzazione e politiche in qualche modo discriminatorie a favore di certe imprese o di certe aree. Gli obiettivi erano la promozione degli investimenti industriali, la creazione di esternalità di agglomerazione e il trasferimento di tecnologie assorbite da imprese straniere. Ora se ho sottolineato questo aspetto in qualche modo sperimentale e pragmatico, seguite questo grafico, qui vi faccio vedere la dislocazione delle zone economiche speciali. Nel 1980 probabilmente fate fatica a vederle, c'è qualcuna qui sulle zone costali, 88, 92, 2000, 2005 e 2010. Questa creazione di poli di sviluppo a livello locale è stata una delle strategie del successo della Cina. Ora quello che facciamo con metodi economici ed econometrici è di valutare con un confronto tra le città che sono oggetto di queste politiche e quelle che non lo sono, quali sono gli effetti sulla crescita economica. È una metodologia che chiamiamo difference in difference nel giargone economico. Ecco, quello che stimiamo è che questo tipo di intervento abbia creato un eccesso di crescita nelle città che sono state oggetto di queste politiche dell'ordine del 20%. Ora il 20% in livello può non essere tantissimo per un'economia che cresce come la Cina, ma facciamo anche vedere che quanto più le zone sono vicine, le città sono vicine a queste città che sono state oggetto di questo intervento, tanto più c'è stata crescita. Quindi questa crescita non ha solo avuto un effetto a livello locale ma in qualche modo si è diffusa alle zone limitrofe portando a un effetto globale positivo sulla crescita economica del paese. Quindi il primo tipo di politica che è stata molto importante sono questi tipi di politica industriale che hanno concentrato risorse in alcune zone anche creando dei vantaggi a favore di certe imprese selezionate. Il secondo fenomeno chiave del processo di crescita della Cina è stata la riallocazione di risorse, qui a Shennao prima, questo è basato su un altro lavoro che abbiamo fatto. Il boom cinese è ancora prima che di ogni altra cosa è un fenomeno di riallocazione delle risorse produttive dal settore rurale al settore urbano e all'interno del settore industriale. In particolare la privatizzazione che è stata promossa negli anni 90 ha avuto la forma di una crescita di una serie di imprese private che avevano una produttività superiore rispetto alle imprese statali che avevano una produttività più bassa. E anche il modo in cui questo processo di privatizzazione è avvenuto interessante e significativo per capire la cultura politica e politico-economica della leadership cinese. Inizialmente l'impresa privata non poteva esistere in Cina, era proibita, poi gradualmente prima sono state invitate imprese a capitale straniero, poi lentamente imprese private sono cresciute e sono state tollerate, erano illegali ma in ogni caso potevano esistere. Infine esplicitamente a partire dall'anno 1997, quindi relativamente tardi, c'è stata la benedizione del Partito Comunista cinese che ha detto questo tipo di crescita va bene, anzi le imprese statali devono essere in competizione, in concorrenza con le imprese private e dimostrare in un mercato la loro capacità di esistenza. E questo è stato il processo di trasformazione che abbiamo vissuto tra la fine degli anni 90 e la fine del primo decennio del 2000. Nell'anno 1998 nel settore manifatturiero meno del 5% della forza lavoro era impiegato in imprese private e nel 2010 questa percentuale è cresciuta oltre il 60%, quindi abbiamo un'economia che ha cambiato completamente di faccia e in questo processo di trasformazione c'è stata la crescita di produttività. Se guardiamo alla relativa profittabilità delle imprese private rispetto alle imprese statali vediamo che c'è una differenza significativa che rende le imprese private molto più produttive, quindi il semplice fatto che c'è la riallocazione di risorse da imprese meno produttive a imprese più produttive è uno dei grandi motori della crescita economica cinese. Ora la privatizzazione è sicuramente stata una delle fonti di crescita dell'economia cinese ma è importante anche capire i termini e qui vengo diciamo alla parte meno virtuosa del processo di crescita della Cina. Questo è basato su un lavoro recente di tre studiosi cinesi, uno dei quali è un mio ex studente di dottorato che si chiama Chronic Capitalism with Chinese Characteristics. Questi studiosi notano quanto segue, c'è stato questo grande processo di privatizzazione ma creare imprese private in Cina è relativamente complicato, in realtà se uno guarda le regole formali non è relativamente complicato, è complicatissimo. È complicatissimo perché richiede una quantità enorme di approvazioni amministrative, di timbri e c'è uno studio della Banca Mondiale che dice che richiede in media oltre 270 giorni. Secondo questo studio creare un'impresa in Cina è più o meno tanto facile o tanto complicato come nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi stiamo parlando di un sistema che dal punto di vista delle regole formali è pessimo. Però la Cina ha un'altra virtù, ci sono le regole formali e ci sono le eccezioni e di eccezioni ce ne sono tante. Queste eccezioni da chi vengono decise? Tipicamente dalle strutture locali del Partito Comunista in modo arbitrario e sulla base della capacità di certe imprese di collegarsi e di eventualmente pagare le bussarelle necessarie, se vogliamo usare una terminologia italiana, perché questo avvenga. Uno degli esempi caratteristici è la cosiddetta velocità Zhengzhou. Questa è la storia di come l'impresa del settore elettronico Foxconn, che è un'impresa basata in Taiwan, una delle più grandi che produce all'interno della Cina, si è riuscito nel giro di pochi mesi, non di 272 giorni, ad avviare e a sviluppare processi produttivi nella provincia di Enan. Se vedete da questa scaletta, nel 2009 c'è stato il primo contatto tra rappresentanti della provincia di Enan e l'impresa di Taiwan Foxconn e nel maggio 2010 c'è stata la prima visita on site dei rappresentanti di Foxconn, l'accordo viene siglato in giugno e nell'agosto del 2010 Foxconn Zhengzhou inizia la produzione. Questa è un'altra citazione di un episodio simile che riguarda l'industria automobilistica, dove Mr. Zhang, il segretario del preto comunista di Wu Hu, dice al direttore generale di Sherry, lasci che mi prenda cura io della politica, della terra del denaro, lei si preoccupi di fare costruire delle automobili qui. Il miracolo cinese in parte si spiega con questi due esempi. La capacità dei governi locali di garantire a questa particolare impresa, spesso grazie a connessioni ed anche a incentivi di carattere corruzione, questo ha garantito a queste imprese accesso a mercati locali. Questi mercati non sono aperti, la legislazione è tremenda, ma le organizzazioni locali del partito sono in grado di aggirare tutte le burocrazie che questo tipo di legislazione impone. Ora questo meccanismo che ha creato una proliferazione di storie di successo a livello locale è evidentemente basato su una grande tolleranza per la corruzione e questo è in qualche modo il meccanismo che ha funzionato fino all'avvento al potere di Xi Jinping. I governi locali hanno tutti gli incentivi a fare un buon lavoro e hanno la capacità di farlo. In molti paesi invece di sviluppo anche pagando una bustarella non si ottiene nulla perché il burocrate locale è poi incapace di garantire qualunque forma di controllo sul tipo di favore che dovrebbe essere in grado di fare. La Cina e i governi locali sono estremamente corrotti ma anche estremamente efficienti nella girare queste barriere. Ecco e questa è una delle immagini dei risultati. Non la chiamerei una vera e propria concorrenza stile occidentale ma c'è concorrenza tra governi locali. Per cui se guardate i taxi di Shanghai sono tutti uguali ma sono diversi dai taxi di Wuhu. I taxi di Wuhu sono tutti uguali tra di loro, infatti credo che sia la compagnia di cui parlavo prima e sono a loro volta diversi da quelli di Dalian. Quindi ogni città crea il suo piccolo monopolio locale. Gli imprenditori, almeno quelli che hanno le giuste connessioni, sono relativamente soddisfatti di questa situazione perché la concorrenza e la concorrenza potenziale crea un problema a chi vuole fare business. Infatti una delle evidenze che troviamo è che un numero crescente di imprenditori privato è diventato membro del partito comunista cinese, è diventato membro del congresso popolare e anche di altri organismi politici governativi centrali, provinciali e cittadini. Le inchieste per quello che possano valere in un paese dove non è che ci siano tutte le garanzie civili e democratiche come la Cina però suggeriscono che gli imprenditori come gruppo sono quelli che mostrano un entusiasmo più limitato verso un'ipotetica democratizzazione rispetto ad altri scelti sociali. Ora il limite di questo sistema, questo sistema ha mostrato una grande capacità di mobilizzare risorse ma il limite di questo sistema è che non crea un sistema di level play field competition, non crea gli incentivi per nuovi start up perché anzi questi start up vengono bloccati e i governi locali spesso garantiscono le imprese che sono attive in ogni città che non ci sarà concorrenza potenziale da parte di altri. È un sistema che vive ampiamente di tangenti e di corruzione, è un sistema le cui basi vengono minate da quella che è la campagna anticorruzione di Xi Jinping. Ora prima di tornare al potere politico volevo parlare un momento di un fatto importante che è stato il pacchetto di stimolo economico che è stato introdotto nel 2008 perché questo in qualche modo ha rappresentato un ulteriore momento di escalation di un processo di investimento che in qualche modo è stato anche selvaggio. Dunque cosa è successo nel 2008? Nel 2008 siamo ai tempi dell'esplosione della grande recessione in Occidente e se andate a leggere quello che scrivevano riviste come l'Economist la Cina era, fin da allora si parlava sull'oro del collasso, c'erano tantissime storie di una crisi incipiente che avrebbe fermato il processo economico in Cina. L'elite politica in qualche modo si spaventa e mette in moto e approva un processo di investimento e di stimoli dell'economia che quantitativamente è più grande di quello che è stato messo in campo negli Stati Uniti. Questo processo è focalizzato su infrastrutture pubbliche e anche su un allentamento creditizio. È un pacchetto di misure che viene incensato dalla stampa internazionale e anche dalle organizzazioni internazionali, per cui la Banca Mondiale per esempio, la Banca Mondiale loda i cinesi per questo intervento che in qualche modo può stimolare l'economia. Infatti questo intervento ha un effetto molto importante nel breve periodo. Riesce in qualche modo, la Cina non ha una grande recessione, il tasso di crescita tra il 2008 e il 2011 è ancora del 9,5%. C'è una forte accelerazione della crescita salariale, insomma il processo di rallentamento della crescita non si vede in Cina. Il problema è che in qualche modo quella transizione dalla crescita quantitativa alla crescita innovativa di cui parlavo all'inizio della mia presentazione viene rallentato da questo intervento. Perché? Perché il maggiore fenomeno che vediamo nell'economia cinese è un grande investimento nella creazione di infrastrutture. Abbiamo una cementificazione a volte selvaggia delle città e la creazione di strade non sempre necessarie e il credito che paradossalmente anziché essere canalizzato verso le piccole e medie imprese che in qualche modo soffrivano di una mancanza di accessi ai canali creditizi, viene canalizzato verso i governi locali e i settori della costruzione delle miniere. Quindi abbiamo questa esplosione di fenomeni di finanziamento che diventano anche un ulteriore alimento della corruzione a livello locale. In questo quadro arriva Xi Jinping. Xi Jinping diventa segretario del generale della preta comunista cinese nel novembre 2012 e anche presidente della Repubblica Popolare nel 2013. Eredita un periodo di grande crescita ma anche un'economia che in qualche modo è sovrastimolata da questo pacchetto di investimenti tanto potente messo in campo nel 2008. La leadership che aveva preceduto Mr. Xi era una leadership conservatrice e pragmatica. In qualche modo era una leadership che non aveva fatto importanti riforme economiche. Le grandi riforme economiche cinese sono fatte negli anni 90 dal governo di Yang Zemin. C'è un'ampia tolleranza del sistema di corruzione e questo sistema di corruzione in qualche modo è descritto brevemente dal fenomeno nelle mie slides precedenti. Tanto per dare un esempio, nel 2012 un fatto che crea una grande emozione anche a livello pubblico, nell'ottobre 2012 un'inchiesta del New York Times fa vedere che la famiglia del premier Wen Jiabao ha controllato attività finanziarie per un valore di 2 miliardi e 700 milioni di dollari durante il suo mandato. Quindi questa è la situazione della Cina quando Xi interviene. Tutti si aspettano che Xi continuerà la leadership pragmatica di Hu, tuttavia Xi viene da una storia differente. Xi è un princeling, figlio di un veterano comunista, arriva al potere con l'appoggio non del leader precedente ma del gruppo di Yang Zemin che era precedente a sua volta alla leadership di Hu Jintao e costruisce la propria reputazione con una forte performance a livello locale, con un grande successo come leader della provincia di Xi. E quindi abbiamo un improvviso cambiamento di rotta da parte di Xi, una leadership anche molto più proattiva di quella del predecessore, la crociata contro la corruzione soprattutto all'interno del partito comunista, un atteggiamento anche più assertivo, a volte aggressivo a livello internazionale, l'assenza quasi totale di ogni apertura democratica, anzi la leadership di Xi si caratterizza per un intervento sempre più stretto in termini di censura preventiva. Nonostante questo quando si parla con la popolazione cinese Xi ha un certo prestigio a livello personale perché in qualche modo viene percepito da molti come il fustigatore della immoralità del partito comunista. Ora, tra le tante scelte che Xi mette in campo ci sono molte contraddizioni, ad esempio c'è una rinnovata enfasi sul ruolo delle imprese statali, c'è un rallentamento della privatizzazione, alcune riforme economiche continuano mentre altre sono bloccate, la discussione sulla indipendenza del sistema giudiziario non viene messa nell'agenda, ci sono queste strane idee che il valore del mercato azionario possa essere controllato politicamente dal partito comunista che ha portato alle grandi oscillazioni che sono state viste. Insomma la visione di Xi è molto più vicina a quella di un capitalismo di Stato che è quella di un'economia di mercato di carattere liberale. E questo è anche il limite, è un'esperienza di cui non abbiamo altri ovvi esempi nel corso dell'esperienza di processo di sviluppo. c'è chi dice che l'esempio per Xi sia Singapore, cioè l'ideale di Xi sia quello di creare nella Cina uno Stato di Singapore a livelli molto estesi. Questa evidentemente è la visione. Economist crede che questo non funzionerà. La mia visione? Non lo so. Io credo che l'economist sia probabilmente troppo pessimista. Voglio dare, e con questo avviarmi a concludere, alcuni fatti, alcuni dati importanti sulla struttura economica cinese contemporanea. Questa è l'evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo come percentuale del prodotto interno lordo. La Cina parte dagli anni anni 90 come la maggioranza delle economie emergenti con un investimento in innovazione molto basso. Nel corso della prima decada degli anni 2000 questo aumenta e oggi come percentuale del prodotto interno lordo. La Cina spende più del Regno Unito o di un paese come l'Italia. spende di fatto la stessa percentuale che spende in termini relativi l'Unione Europea. Questo è un caso unico tra i paesi emergenti perché la gran parte dei paesi emergenti non partecipa assolutamente alla spesa innovativa. Ora in uno studio che ho in corso mostriamo che in realtà questa non è semplicemente falsa innovazione come a volte si pensa creata per soddisfare le richieste di un potere politico ma che effettivamente l'innovazione arriva a livello delle imprese. C'è un grande investimento in capitale umano che non è un investimento fatto negli ultimi anni da Xi ma un investimento che è stato prodotto nel corso degli ultimi 20 anni dove è aumentato il tasso di iscrizione terziario, il numero di laureati, quindi la qualificazione della forza lavoro cinese è estremamente alta. Oltre uno studente internazionale su sei oggi è cinese. Se guardiamo anche alla qualità del sistema educativo cinese e lo misuriamo dagli studi di Pisa, lo studio Pisa che è uno studio internazionale dove vengono confrontati i risultati di studenti di 15 anni in diversi paesi con lo stesso insieme di domande, vediamo che la Cina è in testa questo. Ora ci sono tutta una serie di qualificazioni che sono necessarie perché i cinesi comunque testano solo gli studenti di Shanghai a questo momento ma certamente c'è un'impressione che anche la qualità dell'educazione sia cresciuta sostanzialmente. Si pensi che ad esempio se guardiamo alla qualità delle competenze economiche degli studenti che è stata testata recentemente, la Svizzera non ha partecipato purtroppo a questo, anche lì vediamo che gli studenti cinesi di 15 anni sono in grado di risolvere problemi di carattere economico che sono molto più avanzati di quelli di altri paesi. Infine c'è un processo di cambiamento strutturale in corso in Cina che lascia aperta la possibilità di un altro importante processo di transizione, questa è la cosiddetta terziarizzazione, cioè vediamo che così come in molte economie avanzate il settore dei servizi cresce, la Cina ha mantenuto una forte vocazione manifatturiera soprattutto grazie ai salari bassi nel corso degli anni, però negli ultimi anni vediamo una tendenza del settore manifatturiero a decrescere e questo è quello che in qualche modo anche viene misurato dai dati con una certa preoccupazione, però c'è uno sviluppo del settore dei servizi che in qualche modo lascia presagire a un ulteriore fenomeno di transizione e di riallocazione di risorse che è simile a quello dei paesi avanzati. Abbiamo cercato di fare qualche tempo fa una previsione di crescita, questo è quello che ho detto, dove ho detto gli economisti di solito non siamo molto bravi, questo è un lavoro che abbiamo pubblicato nel 2015 ed è un lavoro basato su previsioni di crescita della Cina che sono abbastanza moderate, cioè ad esempio la nostra previsione è che la crescita della Cina tra il 2010 e il 2030 sarebbe all'intorno del 5% anno e qui non bisogna dimenticare che ci sono ragioni fondamentali anche fisiologiche per cui un'economia non può continuare a crescere al 10% anno e quindi il rallentamento del processo di crescita cinese in qualche modo è in grande misura fisiologico, se questa crescita continua a rallentare ma ai tassi a cui la vediamo rallentare oggi è plausibile pensare che intorno al 2040 la Cina abbia raggiunto il 73% del PIL pro capita di paesi come gli Stati Uniti alla Svizzera e quindi sia in qualche modo la nuova Corea. Mi avvio a concludere, la mia previsione sul futuro è che la velocità della crescita cinese non può che decelerare, questo processo è largamente fisiologico ed anzi sono convinto che l'eccessiva enfasi della leadership politica cinese sul mantenere tassi di crescita elevati non aiuti ma al contrario sia nocivo, credo che questo in qualche modo stia bloccando il processo di trasformazione e di transizione da un'economia di crescita quantitativa a un'economia di crescita innovativa. D'altra parte esistono all'interno dell'economia cinese una serie di risorse in particolare la crescita dell'investimento innovativo e la crescita del capitale umano che garantiscono, a meno che non vi sia uno shock di natura politica, che la crescita possa continuare sia pure a livelli più ridotti. Ricordiamo che una crescita intorno al 4-5% per tanti anni è stata quella che ha caratterizzato paesi dell'area dell'estremo oriente dove appunto si parlava del grande successo delle tigri asiatiche. Può questa crescita essere sostenuta con istituzioni non democratiche? Questo naturalmente ora non ho tempo di discutere ma immagino che ci potranno essere delle domande. Questa è una domanda difficile perché in qualche modo il modello innovativo richiede anche opportunità a campo aperto che l'attuale sistema politico e ad esempio la mancanza di indipendenza del sistema giudiziario, la mancanza di una cultura di protezione degli investitori e anche di adeguate istituzioni può rendere complicata. Quindi questa è sicuramente la grande domanda a cui è difficile dare una risposta. Dal punto di vista dei fondamentali economici io credo che vi sarà un rallentamento ma non ci sarà una caduta verticale del processo di crescita cinese. Grazie. Fabrizio, grazie per questa presentazione così ricca di spunti e che ci dà una lettura estremamente qualificata da un punto di vista scientifico di questo fenomeno. Apro la parte alla sala nelle discussioni delle domande. Innanzitutto buonasera. Vorrei porle una domanda relativamente al rallentamento fisiologico come l'ha definito nella Cina. Tenendo conto che molto spesso si sottolinea come ci siano delle discrepanze tra i dati cinesi e quelli dei suoi partner commerciali, mi stavo chiedendo se questo atterraggio morbido dei tassi di crescita cinesi non sia in realtà un po' più ripido di quanto si voglia far pensare e quindi indirettamente di quanto ci si possa affidare della trasparenza e dell'affidabilità delle istituzioni cinesi. Sì, questa è un'ottima domanda, assolutamente legittima. È anche spesso il caso che appunto l'entità della crescita cinese venga messa in discussione. Io da punto di vista scientifico ho fatto uno studio dove guardiamo in che misura le diversità tra tassi di crescita ufficiali tra diverse aree della Cina, anche a livello di città, siano comparabili con l'evoluzione della luminosità notturna. Questo è un modo che abbiamo come economisti di cercare di valutare quali siano l'attendibilità di dati statistici quando possiamo avere dei dubbi sulla qualità di questi dati. E a livello delle economie avanzate questa è una misura molto precisa, quindi poi andiamo verso statistiche dove ci fidiamo di meno e andiamo a vedere se in qualche modo c'è una corrispondenza. Ora nel caso cinese questa corrispondenza c'è, quindi io credo che nei dati cinesi ci siano molti errori e anche probabilmente politicitazione, ma non credo che complessivamente che questi dati siano completamente fuori linea. Ora la domanda è un po' più precisa di questo e su questo invece vorrei essere un po' meno assertivo, perché la domanda è non è che proprio in questo momento, non sempre, ma proprio in questi anni la crescita sia stata in qualche modo esagerata artificialmente. La domanda è legittima anche perché ci sono delle discussioni tra esperti sulla qualità dei dati di prezzi che sono molto importanti, nel senso che c'è stata una caduta molto forte della produzione a livello nominale, ma i prezzi sono stati giustati dalle statistiche in modo tale che a livello reale la crescita rimane alta. Quindi qualche dubbio che in realtà mi stia crescendo a meno del 6,7% che viene dichiarato esistono e sono legittimi. La mia impressione è che piuttosto l'aspetto più importante qui sia che il governo centrale e i governi locali si siano dati degli obiettivi e che comunque questi obiettivi vengano raggiunti producendo beni e servizi poco utili. Quindi la costruzione di strade che non servono, la costruzione di cattedrali nel deserto crea prodotto interno lordo che poi è giustamente nelle statistiche il problema è in che misura questo dal punto di vista dell'analisi i costi benefici sia una crescita valida. Quindi è una domanda legittima a cui nessuno credo possa rispondere con certezza perché stiamo parlando degli ultimi due o tre anni ma vorrei però fugare un po' l'impressione che anche la crescita della Cina sia stata in qualche modo generata solo dai dati. Io credo che la crescita ci sia, sia stata reale e anche quando guardiamo le diversità di performance a livello locale i dati e alcune di queste misure di cui ho accennato con baci. Buonasera, Gianluigi Mandruzzato di BSI. Posto che concordo sul fatto che il rischio di un crollo o collasso dell'economia imminente sia relativamente improbabile però riallacciandomi anche all'ultima parte della risposta che ho appena dato. Quale potrebbe essere una delle cause che potrebbero, se non creare questi presupposti quantomeno aumentarne significativamente il rischio e in particolare non il rischio se una di queste possibili cause sia legata alla stabilità del sistema bancario che evidentemente dovendo finanziare sempre più progetti che alla fine sembrano essere delle road to nowhere si trovi con ingenti insolvenze che potrebbero minarne la stabilità. Tra l'altro anche in questo senso qualche novità è emersa circa una maggiore trasparenza che non è esattamente solo per questo o in quanto tale è rassicurante visto quello che sta emergendo. Grazie. Sì, ci sono due aspetti secondo me critici. Uno è quello che lei sottolineava che ha a che vedere con come uscire da questo processo di indebitamento progressivo l'altro ha un aspetto più politico ma prima rispondiamo a questo intanto quello che è stato messo in moto già a partire dal 2008 poi progressivamente è un sistema di finanziamento attraverso l'istituzione di veicoli speciali e quant'altro che ha raggiunto principalmente governi locali e governi locali con l'emissione di strumenti non tradizionali di debito o con indebitamento rispetto a questi veicoli hanno finanziato dei progetti di scalso valore sociale ed economico. Ora se questi governi locali non fossero in grado di ripagare il sistema ci sarebbero delle perdite forti quindi questo sistema viene poi progressivamente mantenuto nel tempo dall'aspettativa che ci sia un intervento del livello superiore del governo che in qualche modo garantisca a queste entità locali di ripagare il debito. Questo è evidentemente un processo che non riescono a bloccare perché nel momento in cui alcuni di questi bail out fossero interrotti tutta una serie di istituzioni andrebbero in difficoltà. Ora la mia impressione è che comunque il sistema creditizio interno in particolare le banche cinesi ancora abbiano un livello di capitalizzazione sufficiente perché questo non generi una crisi di carattere globale. L'altra causa che potrebbe scatenare una crisi repentina e quindi una caduta di un atterraggio non morbido è la tensione politica all'interno del partito comunista cinese. Il partito stesso è la fonte di tensione che il livello più alto della dirigenza teme. Nel senso che l'essere intervenuto con queste misure che in qualche modo sono mirate a limitare la corruzione a livello locale ha creato una serie di scontenti e anche la tentazione da parte di qualche leader locale di innescare qualche forma di conflitto sociale proteste di strada e così via. Questa è una delle ragioni secondo gli esperti per cui c'è questa forte forma di censura preventiva che viene messa in atto dal governo di Xi. Ora, fin tanto che l'economia continua a crescere la tolleranza e il Xi sembra comunque in grado di controllare il potere politico. Il rischio è che se l'economia continua ad avere difficoltà e la sua popolarità interna a livello del partito continua a vacillare questo possa produrre a un certo punto delle divisioni e anche l'emergere di qualche forma di protesta a livello locale. Quindi secondo me ci sono queste due tensioni. Io a dire la verità credo che il rischio di una crisi finanziaria legata all'indebitamento non sia tale da portare a una fine del processo di crescita della Cina mentre rispetto alla stabilità politica del sistema è un sistema molto in qualche modo controllato ma talora l'eccesso di controllo è un segnale di debolezza piuttosto che di forza. esattamente la tua stessa domanda l'ultima un'altra considerazione c'è in atto un processo di riforma del sistema bancario in Cina che non riesco a capire soltanto leggendo i giornali la Cina vorrebbe andare verso l'internazionalizzazione del RMB quindi arrivare progressivamente a una situazione in cui i flussi di capitale sono liberi questo è stato fatto portato avanti progressivamente attraverso un'espansione dei flussi cioè sono flussi comunque controllati attraverso il sistema degli investitori privilegiati che comunque rimane limitato a una certa quantità ora la difficoltà è quella di promuovere la difficoltà di portare avanti questa internazionalizzazione è anche legata al fatto che il settore bancario interno è soggetto a delle forti forme di regolamentazione che favoriscono le quattro grandi banche cinesi una delle politiche che è stata oggetto ripetuto di tensione di discussione è stata la liberalizzazione dei rendimenti sui depositi cioè i rendimenti sui depositi in Cina sono controllati e questo diciamo che una nuova banca una nuova entità bancaria non è in grado di fornire di pagare tassi di interesse più alti sui depositi e le banche il sistema bancario interno ha resistito fortemente a riforme di questa limitazione questo è importante perché in qualche modo le grandi banche cinesi sono comunque banche statali e questo anche garantisce al sistema delle imprese statali un vantaggio rispetto alle imprese private con questo è una delle aree dove il nuovo piano quinquennale e le dichiarazioni della leadership sembra andare con più determinazione quindi c'è stato se vogliamo un processo di liberalizzazione ma ancora esistono dei vincoli molto stringenti soprattutto questa possibilità di fornire deposit rates a livelli competitivi è una delle grandi limitazioni quindi se uno guarda alla quota dell'intermediazione che è nelle mani delle quattro grandi banche questa è scesa quindi la sensazione è che ci sia qualche forma di qualche forma di liberalizzazione ma moderata questa fra l'altro dell'eccesso di regolamentazione del sistema bancario è anche una delle ragioni per cui si sono sviluppati questi meccanismi creditizi che stanno a latere diciamo del sistema bancario tradizionale ma che sono essi stessi fenomeni di intermediazione senza garanzie formali ma con aspettative poi di interventi esterni quindi secondo me noi abbiamo avuto diverse volte colloqui su questo tema la liberalizzazione del sistema bancario interno cinese è anche una delle risposte a questi temi dell'emergenza di una crescita selvaggia del debito attraverso canali troppo poco regolamentati quindi abbiamo da una parte un eccesso di regolamentazione sul sistema bancario formale e dall'altra abbiamo strumenti che non sono soggetti ad alcuna regolamentazione buonasera avrei due domande lei ha citato Singapore role model non ha parlato nella sua speech di Hong Kong Hong Kong ha influito come modello all'inizio per il modello cinese che vuole sviluppare la seconda domanda è non è visto che noi ci preoccupiamo di questa decrescita dell'economia cinese non è che è dovuta al fatto che con la globalizzazione praticamente qualsiasi paese ha una diminuzione di crescita economica magari per la Cina è un po' più ampia scusi la seconda parte non ho capito la seconda domanda è visto la globalizzazione anche la Cina ha diminuito la sua crescita economica da oltre 10% al 6,5 6,7 ma questo non ha influito anche il fatto che una crescita a livello mondiale che è depressa ha intaccato anche la Cina e per quanto eventualmente questo ha intaccato la Cina ma sì non dimentichiamo che se guardiamo la crescita a livello mondiale fino al 2012 paradossalmente non è stata tanto bassa è stata piuttosto spostata proprio verso le economie emergenti quindi se uno guarda al livello medio di crescita dell'economia mondiale è stato alto piuttosto che no io credo che certamente la riduzione del tasso di crescita dell'economia di frontiera ha un effetto negativo sulla Cina anche perché limita la domanda di esportazioni e quindi è un vincolo alla crescita cinese d'altra parte il potenziale di crescita e di convergenza diciamo dell'economia cinese è ancora molto forte torniamo al dato che ho mostrato inizialmente dove il reddito pro capite in Cina è ancora il 25% del reddito pro capite delle economie avanzate teniamo conto che le esperienze delle economie emergenti sono anche molto diverse abbiamo da una parte il Brasile che ha grande difficoltà ma dall'altra parte abbiamo l'India che sta crescendo a tassi molto sostenuti per cui certamente c'è un effetto del rallentamento dell'economia globale ma teniamo in conto che nel momento più difficile dell'economia mondiale la crescita della Cina comunque è stata molto elevata ora si potrebbe dire o anche in qualche modo ho cercato di argomentare che questo tipo di interventi con queste politiche keynesiane anche estreme in qualche modo ha rallentato il problema e lo ha soppresso mantenendolo nascosto io credo tuttavia che ci sia ancora un potenziale di crescita alto sulla prima domanda Hong Kong è un organismo sicuramente ha influito notevolmente rispetto all'idea che comunque l'economia di mercato può avere è importante per la crescita economica come modello non credo che la Cina consideri Hong Kong un modello anzi in qualche modo le politiche che sono state fatte recentemente sono quelle di creare una piazza finanziaria alternativa a Shanghai rispetto a Hong Kong quindi Hong Kong viene vista come in qualche modo inizialmente anche uno dei modelli ma non poi Hong Kong viene da un passato coloniale e a un certo punto ha avuto un processo di democratizzazione e questo è piuttosto visto come un elemento di tensione da parte dei cinesi piuttosto che un'opportunità mentre Singapore per quanto abbia avuto anche essa una qualche forma di apertura è comunque uno stato che ha una tradizione autoritaria e in questo senso credo che Xi guardi più al modello di Singapore alla creazione di un sistema che non è democratico piuttosto che a Hong Kong oggi quando Hong Kong se non è democratico è perché la Cina impone dei vincoli ma Hong Kong vorrebbe essere comunque un paese democratico ultima domanda grazie per l'intervento solo una curiosità forse non c'è tanto tempo a disposizione in che modalità se è possibile legare questa politica di transizione generale cinese con la politica economica estera essendo la Cina nel corso degli anni diventato un vero leader mondiale mi rendo conto che forse è necessaria un'altra lezione però a suo vedere come cambiate quali sono i punti più importanti in questa transizione se ce n'è una insomma particolarmente in Europa io credo che ci sia stata in qualche modo se possiamo chiamarla un'involuzione dell'atteggiamento della leadership politica cinese in questo senso nel corso degli anni 90 la impressione è che la Cina guardasse molto di più di quanto non faccia oggi anche parte della sua leadership all'occidente come un modello almeno dal punto di vista del successo economico in parte io credo anche per l'atteggiamento di alcuni paesi gli Stati Uniti quando ad esempio il congresso ha osteggiato l'ampiamento dei diritti della Cina all'interno del fondo monetario sicuramente non ha aiutato anche culturalmente al processo di avvicinamento ma la mia impressione è che l'attuale leadership voglia mostrare che è pronta se necessario alla confrontazione anche a far valere in modo quando necessario aggressivo il fatto che la Cina è una superpotenza quindi vedo soprattutto le tensioni che si stanno manifestando nel mare della Cina dove non credo che la Cina sia l'unico responsabile perché il Giappone una sua volta ha cercato comunque di portare avanti anche delle politiche aggressive vedo questo con una certa preoccupazione la Cina per lungo tempo è stata in qualche modo ha tenuto un profilo molto basso nelle grandi dispute internazionali e in gran parte delle dispute internazionali continuano a farlo però vedo soprattutto quando si tratta dei territori in qualche modo limitrofi alla Cina un atteggiamento chiaramente crescente di potenza internazionale questo ovviamente pensando anche a cosa sta succedendo negli Stati Uniti con le elezioni presidenziali è qualcosa che non sempre lascia dormire tranquilli La ricchezza della discussione dimostra l'interesse di questo tema può continuare nella prossima fase io concludo ringraziando nuovamente il professor Zilibotti per la sua presentazione per aver condiviso con noi i risultati della sua ricerca ringrazio nuovamente Swiss Finance Institute e la BT e i colleghi della mia facoltà per aver coordinato questo evento e tutti voi che avete partecipato invitandovi alla prossima fase conviviare un piccolo aperitivo che si svolgerà all'uscita di questo auditorio grazie buonasera